Una domanda da Giorgio. Sto compilando l'abilitazione al MEPA. Ho scelto professione non organizzata in ordini o collegi perché il professionista individuale non è tenuto all'iscrizione INEAIL. Al riquadro del registro imprese inserisco NA e nei campi, al campo data di iscrizione, non mi accetta né vuoto né NA né 0. Che cosa devo fare? La risposta è che nel campo data di iscrizione occorre indicare la data di inizio attività. Nel campo soggetti attualmente in carica indicare il nome, codice fiscale, indirizzo di residenza, carica e scadenza della nomina.